Prestigioso riconoscimento per il confidi abruzzese Intercredit che conquista il primo posto nella classifica stilata dalla Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale come il più importante intermediario finanziario della Regione per accesso ai fondi pubblici, superando di fatto oltre 30 istituti bancari di caratura nazionale. Intercredit attraverso la propria certificazione del merito creditizio presso il Mediocredito tra il 2009 e il 2017 ha attivato la controgaranzia del Fondo Centrale facendo accogliere e derogare finanziamenti agevolati per oltre 142 milioni di euro a favore di 1770 imprese abruzzesi. In particolare nel 2017, momento di contrattura generale dell'attività dei confidi, Intercredit ha fatto registrare un'impennata della sua performance sostenendo con la propria garanzia circa mille imprese del territorio che hanno potuto accedere a finanziamenti pubblici per 70 milioni di euro. La tipologia di queste imprese offre uno spaccato sociale ed economico dell'Abruzzo. Il 50% delle richieste è arrivato da start-up operanti nel settore del commercio. Seguono le imprese artigiane nel campo dell'industria, del manifatturiero e a sorpresa anche dell'edilizia che sembra essere in ripresa. Registrare invece il forte calo di richieste di accesso ai fondi pubblici agevolati da parte delle imprese femminili.